Una festa di comunità in onore di San Giuseppe che coincide con le celebrazioni del primo maggio festa dei lavoratori e quella organizzata a Campobasso dalla parrocchia di San Giuseppe Artigiano con la collaborazione dell'amministrazione comunale Confimpresa e le scuole della città. Il 30 aprile e il primo maggio una serie di eventi tra cui un convegno sul tema speranze e panne quotidiano incentrato sul tema del lavoro, quel lavoro che manca e che sta spegnendo la speranza tra i giovani. In piena sintonia con la festività anche esterna del primo maggio dedicata al lavoro e ai lavoratori e a tutte le problematiche che ne sossegano. A proposito dei problemi che sta attraversando il Molise come tutto il paese, lei tra l'altro si occupa di una delle parrocchie più grandi della città. Sente il disagio tra i suoi parrocchiani? Ecco, il parroco di San Giuseppe non solo lo sente il disagio ma lo vive e certamente ora che torno troverò ancora gente che mi aspetta. C'è una grande sofferenza da accoglierle a questa gente perché spesso non riusciamo ad asciugare delle lacrime pesanti, tremende, anche con risvolti sociali e morali che incidono sulla famiglia. E allora cerchiamo di fare quello che si può. C'è una sofferenza umana che sta distruggendo la dignità dell'uomo. Stiamo continuando in un percorso di unità territoriale ed ecco anche il motivo della mia presenza qui, oltre che per essere nella Sala Consiliare del Comune, a sostegno di un'iniziativa che è certamente religiosa ma c'è una parte laica, una parte sociale altrettanto importante, per questo Don Vittorio certamente non me ne vorrà, che coinvolge la società e il nostro territorio e riguarda il mondo del lavoro. Un dibattito, una discussione che riguarda gli occupati, che riguarda in modo particolare i disoccupati, ma riguarda anche il mondo dell'impresa. Ecco perché il tema del dibattito del giorno 30 mi porta a prestare particolare attenzione. Nello sviluppo del territorio legato ai diversi attori che agiscono e interagiscono sul territorio regionale. Spazio ai laboratori realizzati dalle scuole della città e alla musica, alle tradizioni con l'esibizione di gruppi folkloristici. Le manifestazioni si chiuderanno il primo maggio con la messa alle 19.30 a seguire lo spettacolo musicale.